Può portarsi in vantaggio, passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match, vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. Avevano già creato a diverse occasioni da rete, è normale che prima o poi arrivasse il gol. Pierre, tu non sbagli mai, sottoscrive in pieno. Polonia che ha trovato il gol del vantaggio e adesso può gestire.